La parrocchia di Mazzetta quest'anno, come sempre, tutti gli anni, festeggia il Santo Patrono San Pietro Apostolo. Lo fa preparando un triduo solenne nei giorni del 20, 21 e 22 giugno. La messa di questo triduo sarà predicata da Don Ilvo Corniglia, che come tutti sappiamo è stato rettore per tanti anni al seminario diocesano, nonché noto biblista e oggi parroco di Santa Maria Assunta. L'animazione della messa, invece, è affidata a tre cori. Il coro di Bolano, che ci sarà appunto il 20 giugno, sempre la messa delle 18.30, la messa vespertina. Poi il secondo giorno, il 21, ci sarà il coro di Santa Maria Assunta e il terzo giorno, che è il 22, sarà la volta del coro di Mazzetta, che è appunto il laboratorio di musica sacra. Poi arriviamo alla festa vigiliare del Patrono, del Santo Patrono, che è il 28 giugno. Alle 18 ci saranno i primi vespri a seguire la Santa Messa delle 18.30. Il 29 è il giorno della festa e il giorno della festa ci saranno i vespri e la celebrazione verrà presieduta da sua eccellenza Bassano Stafieri, vescovo emerito di La Spezia. Ovviamente la festività del Patrono in parrocchia prevede anche momenti culturali. Da segnalare in particolare il 28 giugno alle 21.30, lo spettacolo teatrale Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro, interpretato da Pietro Sarubbi, noto artista che ha recitato nelle vesti di Barabba nel film La Passione di Mel Gibson. Non mancheranno momenti di relax e divertimenti, nel corso dei quali si potranno gustare i piatti della gastronomia locale, preparati con cura dai volontari della parrocchia. È davvero bello anche considerare l'impegno di tutti i parrocchiani, di tanti parrocchiani, che a vario titolo, sia dall'aspetto liturgico, sia dall'aspetto più della fiera e con tanti altri piccoli servizi, collaborano a fare festa in parrocchia. È anche da notare una cosa molto bella, che in questo quartiere in fondo è un po' l'unica occasione da sempre di aggregazione, perché in fondo non ci sono poi altre grandi manifestazioni in questo quartiere, bensì la festa del Patrono è motivo di aggregazione e porta davvero tanta gente a stare insieme nel segno del Santo, nel segno della fede. Vorrei anche in questa occasione, tramite Tele Liguria Sud, invitare proprio a essere presenti sia all'aspetto liturgico, sia all'aspetto culturale, sia all'aspetto più conviviale giù nei locali del campo e dell'oratorio.